Cari Toro, avere come alleati Marte e Saturno insieme non è cosa da poco, perché Marte è il pianeta dell'azione, quindi voi qualunque iniziativa prenderete sarà piena dell'energia giusta per compiere il cammino che deve compiere, ma dall'altra c'è Saturno che vi fa muovere i vostri passi dopo le riflessioni più opportune, più vantaggiose per voi, quindi vi muoverete sì, ma a ragion veduta e con possibilità di successo non da poco, i vostri meriti vengono riconosciuti, la vostra credibilità ancora di più vi porta forse anche a occupare posizioni di maggior prestigio. La luna migliore è quella di mercoledì, giovedì e domenica, quando potreste compiere piccoli grandi miracoli sia nel lavoro, sia nel privato, sia nelle suine intimità. Grazie 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 Grazie